Il prossimo passo è che noi abbiamo bisogno di planificare con un'idea che non è esperto, anche in corso, con un'idea di diversi settori e hanno un'idea con la nostra situazione per disegnare un plan per noi crescere e arrivare a un livello, che non è un'altra questione di cui abbiamo bisogno di un dia per l'altro, non a un altro livello, ma abbiamo bisogno di un'idea di una forma paulatina per arrivare in anno. Non è disposto di se, non è disposto anche per garantire l'aiuto alla fortificazione della razza, per cui credo che lo faccia, che forse, che è la qualità della carne, che non ha una esperienza di si. Però, ce la cosa più importante dov'è aver avuto la situazione di comandante? Nel centro di esperienza Dice io, noi non amiamo solamente la forma di criamento di porco. Noi amiamo anche quando è produzione di porco. E noi amiamo gli studenti di tutta parte del mondo che hanno lato. E'altra parte di cooperazione con noi, lo hanno fatto che, magari, creare di porco anche mesi, con lo che va a fare un certo corso, non cortico, non solo pensi, però vanno a dire, se c'è un tipo di studiante che ha interesse di profondità in materia, in teoria, in teoria, in forma di becca, non si può scoprire un tre o quattro gente che ci segui e trena completamente, che viene opleide. Lo quale, la produzione di comanda, è una cosa più importante. A chi non è un gruppo, comanda con un po' di porco, non sta consigliere come avval, per esempio, resta un anno di ristorante, comanda di ristorante, o di panaderia, o di tutto il resto. Il risultato è che io non ho usato un'ambiente. Però chi non è così, non è tutta, per esempio, se ti ho un panaderia e ti è il chauffeur a cuore, di una maniera irresponsabile, il bolo che mi ha lavorato, non mi stelle a macicare, il bolo che ti ha lavorato per la compagnia. Però non sai ora, non ti analizzare, non ti bisogna, e sai che ti ho più succo ad in, e il succo, in modo di papio, non è sufficiente per il porco, Quindi, non si può mesclerlo con altri ingredienti, proteine, etc., di tal maniera, che non ti può convirtare in un comanda benefico per il porco. Grazie a tutti.